Io ieri ho beccato, ero giù in Brasile dieci giorni fa e volevo intervistare uno dei nostri dirigenti che volevo promuovere, mi ha detto che non era lì, sono tornato su e ho cercato di beccarlo quando ero in Italia, mi ha detto che ero in ferie, in Italia. Allora ho detto che mi ero intracciato, l'ho fatto da venire su, l'ho visto, sto povero disgraziato ieri, che l'abbiamo beccato in luna di miele nelle Barbados ed è tornato in Italia per incontrare me, mi sono fatto sentire proprio da Zerbino, questo povero disgraziato ha lasciato la moglie in Barbados per venire a trovare me, ma ti dice molto del tipo di impegno che esiste nel gruppo dei nostri leaders, questa è la persona che normalmente avrebbero detto può aspettare che arrivano dalle ferie l'8 settembre, ma la possibilità di poter lavorare in un gruppo ristretto che sta gestendo questa realtà è una cosa estremamente importante per tutti noi, quindi la gente sta facendo tantissimi sacrifici a tutti i livelli dell'organizzazione per portare avanti il disegno che abbiamo presentato il 6 maggio.